Mercoledì 21 giugno alle 17.30 ci ritroveremo come Partito Democratico e come persone interessate a dibattere sul tema culturale nel secondo laboratorio che il Partito Democratico ha individuato con il titolo Direzione Pesal 2024 e affronteremo con l'assessore alla bellezza e vice sindaco Daniele Vimini il percorso di organizzazione di tutti i servizi culturali della città che hanno poi avuto questo riconoscimento importante per la nostra città che comunerà nella Capitale 2024 è il secondo passo come dicevo verso Pesal 2024 in cui in questo percorso in questo anno il Partito Democratico vuole mettere in rilievo i cardini della sua azione politica e amministrativa che hanno connotato questo decennio diciamo sostanzialmente.